Stasera sta un po' nascendo la dinastia dei rossi che approdano ancora in finale, il secondo anno di fila, Vignozzi, Zerini, tutto il roster ha funzionato a dovere. Sì, è una partita oggi che probabilmente il risultato finale è in canna, è stata equilibrata per gran parte, poi l'accederata finale perché insomma molto bene in difesa, dal terzo quarto un po' e i primi due quarti molto, insomma c'è qualcosina da rivedere. Siamo felici perché ci tenevamo a rinfermarci, a rigiocare la finale anche quest'anno. Ecco, il sorriso di Tuzioni, oltre che per la partita, anche forse per l'atmosfera, insomma è stato forte il supporto dei rossi e poi insomma anche tutta la cornice ha retto bene per tutta la partita. Sì, qui è sempre più fantastico, giocarci fa parte di questa manifestazione. Noi, ripeto, siamo una squadra, tutti i ragazzi, gli ho chiesto di portare il mattoncino per la vittoria, c'è chi l'ha fatto prima e dopo, chi è in attacco in difesa, bravi tutti.